rispettiamo chi ci rispetta cosa lo faccio io sempre per fare il poliziotto rispettiamo chi ci rispetta è un'eccellenza che è la poliziotto ma poi se sta a legge il comunicato dice che domani sei c'è una manifestazione non lo vogliono proprio non servizio ma non servizio ma non servizio si ciò vi becca a noi 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 dai ragazze ci ci sono no diciamo che è molto tifoso e poi il gruppo storico sono 10 anni oggi fanno festeggio 10 anni che è nato questo gruppo e stava sui ragazzetti perché non lo vogliono perché non lo vogliono perché non lo vogliono perché ma si cazzo delle coci le coci non è? non lo vogliono perché Quello lo sa fare video, ecco, questo qua è il primo. No, è uguale dai.